Piste aperte anche questo fine settimana in Toscana grazie alla neve programmata che ha salvato il turismo bianco dalla miata alla nuniciana anche durante le lunghe feste di Natale. E quanto si spiega dagli operatori della montagna toscana, la neve sparata con i cannoni è ormai presente in tutte le località, le precipitazioni nevose si spiega sono state poche e con accumuli modesti. Solo la presenza dei cannoni e il grande impegno degli operatori per produrre neve e allestire i tracciati hanno potuto garantire la sciabilità. In particolare la betone già da ieri è entrato in funzione il collegamento sci ai piedi o vovia pulicchio nei due sensi mentre da oggi sono aperte la seggiovia riva e la pista riva. Non mancherà il sole, la miata si è invece svegliato ieri con una leggera spolverata di neve che ha però reso il paesaggio tipicamente invernale. Per i prossimi giorni si spiega ancora le speranze di sciatori e impiantisti sono rivolte al tanto atteso cedimento dell'alta pressione che le previsioni annunciano a partire dalla prossima settimana con il ritorno delle precipitazioni nevose.